Israele in continuo contatto con gli Stati Uniti ritiene imminente un attacco diretto dell'Iran e si dice altamente preparato a difendersi e rispondere. Nonostante la comunità internazionale abbia invitato Teheran ad esistere per evitare un'escalation del conflitto nella regione, il ministro degli esseri iraniano ha ribadito la necessità di mettere in atto una rappresaglia per l'attacco di Israele all'ambasciata iraniana a Damasco. La risposta, assicurato, sarà proporzionata. Giovedì il capo del Pentagono Lloyd Austin ha assicurato al ministro degli esseri israeliano Yov Gallant il pieno appoggio di Washington a Tel Aviv contro Teheran. Poche ore prima il generale Michael Curie, responsabile del Medio Oriente per gli Stati Uniti, è volato in Israele.